Non è una novità il fatto che io non sia particolarmente favorevole all'idea della quota rosa, per me la capacità di una persona non dipende dalla sua identità di genere, quindi se una persona merita di ricoprire un posto non lo merita di più perché dono, di più perché uomo.